Poesia Maria Gloria Sears da I Leoni sul Sagrato Qualcosa che trema nel cuore, profondo e solo, non udito, non creduto, me fa vecchia di secoli. La poesia che ho scelto per presentare l'incontro di oggi, Donna mistero senza fine bello, è il titolo gozaniano dell'incontro, è un testo molto breve di una poetessa che io amo molto, estimo molto e che nessuno conosce, Maria Gloria Sears, I Leoni sul Sagrato, un libretto che fu pubblicato dalla prestigiosa colana dello specchio Mondadori nel 54 e diceva «Qualcosa che trema nel cuore, profondo e solo, non udito, non creduto, mi fa vecchia di secoli». Non è per iniziare con una lamentazione, non è una lamentazione, è una costituzione di una donna evidentemente, che allude a una sorta di status, di svantaggio, non decisamente o totalmente rispetto all'uomo, ma comunque ad una situazione di inferiorità. Questo vocabolo che non sto usando in senso politico l'ho trovato in un pensiero che si rivolge appunto, che si riferisce appunto alle donne, di Choran, un autore che bisogna leggere a piccole dosi, a meno che non si sia intenzionati a suicidarsi. Choran dice «Se preferisco le donne agli uomini è perché hanno il vantaggio di essere più squilibrate, quindi più complicate, più perspicaci e più ciniche, senza contare quella superiorità misteriosa che conferisce una schiavitù millenaria». Interessante questo pensiero. Il fatto che la donna, storicamente, insomma, è una realtà, sia stata per secoli, soprattutto appunto parliamo della nostra civiltà, civiltà occidentale, considerata in una situazione di inferiorità rispetto all'uomo, le conferisce paradossalmente una superiorità in senso psicologico. Quindi anche se la frase, il frammento lirico di Maria Gloria Sears allude a una situazione dolorosa, mi fa vecchia di secoli, è interessante come affermazione perché riguarda tutte le donne, ma lei sente una vecchiaia non gradita, è un'affermazione di diversità. Ora, la vexata questio della poesia femminile, non sto parlando di poesia femminista, che è il peggio che la poesia femminile abbia dato, a mio avviso, sto parlando di poesia femminile, la vexata questio della poesia femminile, che significa semplicemente poesia scritta da una donna, dico che è una vexata questio perché in anni non lontanissimi dai nostri si è parlato spesso di ghettizzazione a proposito dell'espressione poesia femminile. Francamente è un concetto che non arrivo a capire. Semplicemente stiamo parlando della poesia scritta dalle donne, che effettivamente, a mio avviso, può essere considerata come una forma di scrittura particolare, una forma di scrittura forse riconoscibile, senza assolutamente ghettizzarla né etichettarla. Non ci accorgiamo che una poesia, prendiamone un campionario, non so, di dieci, venti, se noi leggiamo dieci, venti poesie scritte da una donna, non ci accorgiamo che sono scritte da una donna? Io direi di sì. Il femminile, senza addentrarci nei gineprai della psicoanalisi o in simili voragini, il femminile è caratterizzato anche nel linguaggio da una tendenza e una tensione alla vibrazione incandescente, alla nervenkunst, alla scrittura dei nervi, alle sfumature, che a volte troviamo anche nella poesia scritta da uomini, anagraficamente maschi, ma che comunque resta un tratto femminile. Maria Gloria Sears, ma si riconosce subito che è una donna, quando si legge I leoni sul sagrato, ad esempio. C'è un luogo dove dormi e il tuo respiro io non lo sento, non lo sento mai. Fra i nostri due riposi è la città spavalda, strade, fragori, alterchi, gente, tetti, e come due leoni sul sagrato, remoti e fermi, chiusi in una forma, noi vigiliamo la nostra distanza. E quando te ne vai dalla mia casa, intorno a me non ci son più pareti, il vento che combatte nelle strade mi piega come un alto esile pino. E' un vibrare in poesia d'amore che rivela una dimensione di sottomissione, di fragilità, di solitudine, tutta il femminile. Negli anni dal 54 al 57 uscirono tre volumi di poesia nello specchio, tutti e tre di voci femminili. Una è Maria Gloria Sears, un'altra è Maria Luisa Spaziani, a tutti nota, che poi analizzeremo e leggeremo con grande piacere, Biagia Marniti nel 57, con una presentazione di Ungaretti. Biagia Marniti anche esprime delle note squisitamente femminili. O forza se ami, se mordi le mani, il fianco falciato da baci, vita nei tuoi gorghi scivolare e dolce. Come rondine rido fra l'erba, amore avvolge le mie membra nell'alito caldo del sole. Questa è addirittura il ritmo di un frammento greco che potrebbe essere di Saffo. La poesia d'amore femminile è una poesia molto spesso riconoscibile per queste note struggenti e molto liriche, di solito. Ma non è che dobbiamo proprio ridurre la poesia femminile a poesia d'amore femminile. Poi l'amore si sa che alla fine è un argomento anche molto noioso, oltre che infrazionato. Anche la poesia di autointrospezione psicologica, quella scritta dalle donne, sto parlando e ci limitiamo alle donne italiane del Novecento, è una poesia di estrema acutezza ed è una poesia in cui spesso si affaccia la follia, anche qui dobbiamo dirlo, in una modalità femminile. Del resto femminile è il vocabolo isteria, ma anche il vocabolo melanconia, ma anche il sostantivo poesia. E che cos'è che principalmente connota il femminile? La passività attiva. Cioè passività dove però, passività significa recezione, percezione del più sottile filamento di circostanza che può influenzare il soggetto che sta percependo la realtà e che viene elaborata interiormente nei meandri del femminile, della psiche femminile, o diciamo di quella tendenza. Penso a Margherita Guidacci, in Neurosuite, accennavamo a isteria, follia, nevrastenia, che non vanno intese solamente nella loro connotazione clinica, ma collegate al discorso creativo. La follia di una donna, anche in certi casi appunto che si trova in un istituto psichiatrico, a tutti è noto il caso di Alda Merini, che ha scritto delle poesie stupende proprio in quella dimensione, in quella situazione, e anche in Margherita Guidacci, meno nota della Merini, ma altrettanto degna di essere ricordata. Neurosuite è un titolo geniale di questo libretto pubblicato nel 70 da Neri Pozza, casa molto raffinata, non c'è bisogno di dirlo, Madame X, che tra l'altro è anche il titolo di un bellissimo film con Lana Turner, è il titolo della poesia che ora vi leggo. Io non sono il mio corpo, mi è straniero, nemico. Ancora peggio è l'anima, e neppure con essa mi identifico. Osservo di lontano le eroze acrobazie di questa coppia, con distacco, ironia, con disgusto talvolta, e intanto penso che la loro assenza sarebbe più guadagno che dolore. Questa e altre cose, ma mentre le penso, io chi sono e dove? Questa poesia mi fa venire in mente persona di Ingmar Berman. È una donna che in persona impazzisce e non sa più chi è. E qua viene riprodotta in versi una situazione di appunto spersonalizzazione, perdita della coscienza, del proprio io, del principio individuazionis, della realtà, che è un termine sempre molto vago e poco convincente. ed è descritta in poesia. Il rapporto fra poesia e follia è stato studiato, ma mai abbastanza, dà dei frutti veramente eccellenti anche in area femminile. soglia rabbrividendo di freddo dentro l'anima. Fuori sarebbe il gesto di chi si stringe in un mantello. Esitiamo su questa soglia. Meglio entrare? Fuggire? Col senso di qualcuno che ci spia dell'occhiata che scocca da una tenda o un paralume furtiva pronta a guizzare indietro come lama di temperino che a scatto si chiude appena ci voltiamo. Chi ci attende e perché? Ci verrà incontro come un ospite amico per guidarci al suo fuoco alla sua mensa o balzerà dall'ombra per afferrarci ai polsi e soffocarci di catene? È un amico o un nemico l'ospite che ci attende celato dietro la tenda o il paralume? Questo è già il mio commento. Tiene in serbo per noi caldi cibi a una mensa fraterna o sta preparandoci catene e ceppi per una pigionia definitiva? Vogliamo davvero conoscerlo? Questo intimo spettro? L'altro insediato dentro di noi da un'oscura eternità cristallo di rocca dell'impenetrabile silenzio? ci coglie uno stato di disagio di spaisamento triste. Siamo scoraggiati per l'incapacità di esorcizzare questo fantasma. Ci ritraiamo dalla soglia lampeggiante di sinistri bagliori e come storditi spettatori quasi impersonalmente apatici osserviamo il nostro goffo temporeggiare. non stiamo guardando oltre la soglia ma al di qua di questa e ci vediamo come in un film stolidi attori senza un preciso ruolo da interpretare irrigiditi dalla stereotipia di un copione innaturale di parole mute. La perdita dell'identità più che temuta è quasi auspicata in certi casi quando è accaduto il peggio quando è accaduto il peggio si forma un grande silenzio come un lago immobile su una città sommersa sono più reali le nuvole delle case che prima abitavamo ci affacciamo curiosi e indifferenti come posteri sulla rovina che più non è tale per noi se soverchiandoci ha travolto la nostra conoscenza che sollievo sentire che nulla ormai ci riguarda. Lo sprofondamento nel baratro del nulla è ingentilito dalla parola poetica questo lo osserva acutissimamente come sempre anche Eugenio Borgna che alla follia femminile e alla poesia femminile generata dalla follia o che si accompagna alla follia ha dedicato delle pagine bellissime anche nel suo libro Le passioni fragili e analizza con molto amore l'amore con cui si è dedicato alla cura delle pazienti donne tanti anni della sua carriera il rapporto fra poesia e melancolia e follia meno follia che malinconia in Antonio Pozzi arriviamo a un nome ormai celebrato dalla critica del nostro tempo anche se ha dovuto aspettare mezzo secolo dopo la sua morte per avere il riconoscimento che meritava in cui così ad Antonio Pozzi in cui questa malinconia è presente continuamente una malinconia che come dice la parola stessa è un umor nero dovuto a una serie di fragilità in Antonio la dissociazione fra la vita interiore e la vita esteriore fra le emozioni apparentemente vissute e quelle tenute nascoste ci fa pensare subito al mistero del dolore ai segreti dell'anima che sono in noi e nessuno vede o almeno intravede ma ci fanno pensare anche alle infinite maschere sul volto di Antonia quelle maschere che era costretta a portare anche dalla sua condizione sociale nell'illusione o nella speranza che persone amiche la sapessero riconoscere Karl Jaspers grande psichiatra e grande filosofo ha scritto cose molto vere sul suicidio su questa rinuncia alla vita che è possibile in ogni età della vita nell'adolescenza nella giovinezza nell'età adulta nell'età anziana ma sono ovviamente i suicidi giovanili a lasciare dietro di sé non solo dolore e stupore ma anche cascate infinite di domande senza risposta se noi guardiamo statisticamente il numero di suicidi di donne nella poesia è superiore a quello di scrittori di sesso maschile il suicidio di Maria Gloria Sears il suicidio di Marina Cvettaeva di Silvia Plath o della appena ricordata Antonia Pozzi è vissuto prima che accada in maniera ancora una volta squisitamente introspettiva e attenta alle sfumature a quel continuo tendere dell'anima all'infinito o al nulla che si sovrappongono l'una all'altra in maniera in tutti questi nomi femminili che potremmo recuperare penso anche al caso più recente di Nadia Campana potremmo recuperare certi indizi dell'atto che poi e se hanno compiuto in immagini della loro poesia il suicidio ma non soltanto il suicidio la difficoltà a cui alludevo all'inizio di vivere in un contesto sempre molto ostile alla donna miserevole pena miserevole pena di essere donna mai abbandonerà il mio passo finché esso non sia stanco ed io non scordi la tua voce e i tuoi occhi questa è un'altra poetessa che siamo in pochi a conoscere ed è Mary Bertin i cognomi possono sembrare stranieri come nel caso di Sears ma è italianissima Maria Gloria Bertin è invece un cognome italianissimo mi pare veneto Maria Gloria Sears Mary Bertin sono figure femminili che hanno cantato la propria solitudine e il proprio senso di inferiorità nell'essere donna senza meta io un appezzente che tende la mano ai passanti per camminare con loro negli spazi musicati dei portici lungo le case sanguigne tra volti pacati di re della terra liberi da ogni solitudine invece quella che è semplicemente la diversità della donna rispetto all'uomo che poi sì insomma perché ci debba essere sempre questa dicotomia o questa contrapposizione obbligatoria donna uomo è una questione anche questa molto interessante insomma non ci dovrebbe essere però di fatto c'è è illustrata da Armanda Guiducci in poesie per un uomo uomo altro da me in tutto maschio estraneo altra carne altro cuore altra mente pure il mio stesso corpo prolungato la voce che si sdoppia e mi continua ciò che si oppone e ciò che mi compone come un discorso teso mai concluso o l'altro occhio il raggio che converge al rilievo allo scatto delle cose mio necessario opposto crudele meraviglia è amare te godere di due vite in questa sola avere doppia morte Armanda Guiducci altro nome sempre dimenticato purtroppo nel panorama della critica della poesia contemporanea era anche l'autrice di quel saggio che uscì da Rizzoli La mela e il serpente negli anni 60-70 che è un'autobiografia un'autoanalisi di una donna e da questo testo mi piace scegliere magari qualche brano dalla repressione si è sviluppato in me un fitto e segreto commercio con i sogni che ha improntato tutta la mia esistenza e qui veniamo a un altro capitolo che dalla poesia femminile è rappresentato egregiamente il rapporto fra repressione e sogno evasione se non ci fosse la repressione esercitata come sappiamo nel corso dei secoli dalla famiglia e dalla società in modi che oggi per fortuna sono insomma meno violenti anche se c'è tutta una serie di sfumature da analizzare per essere precisi e corretti in questo ambito comunque diciamo dalla repressione di cui abbiamo più vistosi esempi nel passato fino all'ottocento è nata nella donna poeta come piace dire a qualcuno o nella donna poetessa è nata una reazione un rifugio che non è soltanto una fuga ma che può essere una forma di alimentazione del sogno quindi della creatività anche ora per me le notti dice sempre Armanda Guiducci sono migliori dei giorni sono più libere selvagge fantastiche i sogni ad occhi aperti i meravigliosi sogni bianchi nella terra di nessuno dove non penetra a fondo l'essere il superio è lontano mi tenero occupata lunghe sere di giovane noia nelle quali la mia coscienza diventava la forma di un gioco fantastico la mia fantasia spettacolo di se stessa la reverie è un giocare a sognare ricordiamoci di Gaston Bachelard che analizza in modo egregio il rapporto fra reverie e poesia in lei sembra prolungarsi in età già adulta la spinta infantile al gioco forse più ricca ancora è bella perché non ha più bisogno di oggetti concreti e solitaria vola incontro alla pura ridda delle immagini interiori da Armanda Guiducci potremmo passare a Daria Menicanti perché no Daria Menicanti una poetessa che ha pubblicato anch'essa nello specchio varie raccolte ha iniziato con Città Come che era nella raccoltina nella colanina del Tornasole sempre Mondadoriana e poi è passata allo specchio con un nero d'ombra poesie per un passante anche lei per finire poi dimenticata per varie misteriose ragioni ecco Daria Menicanti è una poetessa in cui l'elemento satirico violentemente ironico si diciamo affianca continuamente alla dimensione lirica sentimentale a mano a mano quale ero ritorno una che va vestita come capita contenta del poco di rari amici scontrosi una dispari felice di bere alla brocca della sua solitudine ecco la parola che abbiamo già nominato abbiamo già trovato nel nostro percorso femminile e che grazie ad alcune voci singolarmente capaci di illustrarne il vero e recondito spirito della solitudine ci fanno capire che la solitudine al femminile è anch'essa qualcosa di molto diverso dalla solitudine maschile la solitudine il maschio la conosce poco la frequenta anche poco voglio dire la ama poco non trae dalla dimensione della solitudine la maggior fonte della sua ispirazione non facilmente intendo un uomo molto maschile perché poi è chiaro che c'è il femminile anche nell'uomo per fortuna e quindi molto spesso i poeti anagraficamente maschi hanno una sensibilità femminile però comunque nelle donne il modo di cantare la solitudine come il modo di sentirla dà dei frutti molto struggenti molto più sottili con una autoanalisi spesso anche disincantata che è a mio vedere qualcosa di inconfondibile quando una donna parla della sua solitudine l'autoritratto di solitudine tracciato da Daria Minicanti nel testo che ho letto è alieno da qualsiasi forma o sfumatura di vittimismo o di autocommiserazione è questo che ci piace di Daria la sua ironia la sua autoironia ho posato sopra una pietra il mio corpo geometrico ed allegro di grillo tra arroganti granturchi e girasoli sono in pace con la stagione e non mi aspetto nulla l'io in Daria è anche il camaleonte di cui parla John Keats che è il poeta su cui lei si è laureata the camaleont poet e questa capacità di proiettarsi in tutto ciò che la circonda è espressa in una poesia intitolata appunto camaleonte la disposizione non solo ad accogliere in sé l'altro o come nella Guiduci l'uomo ma anche a identificarsi con tutto ciò che costituisce il mondo circostante intima fusione del proprio io con il resto del mondo vivente vegetale animale oltre che umano camaleonte ma sono oltre che me sono sul guscio d'un fiore il mite grillo dell'estate inquilino sono cane lupino che abbaia la strada avventato ai cancelli o lungo i cornicioni gatta sottile ignara di padroni o ancora per i viari alberati la ribalda che vende una sapiente sfioritura di sé o perché no la pioggia calma e solenne dopo il temporale d'una giornata cieca la siepe recisa d'arte a regola in sangue dolorante atroce amputazioni o questa stessa strada che alle soglie di via Marcello agghinda di edicole e mercati i suoi cantoni tutto questo e di nuovo la brace che si spegne dentro sé si potrebbe obiettare che anche quello prospettato dalla Minicanti è in fondo un io diviso proprio perché sparpagliato in mille frantumi di creature ugualmente vittime del comune processo di disgregazione ma non si tratta qui di una situazione di una dimensione o di una condizione nevrotica come abbiamo visto in Margherita Guidacci per esempio è vissuto questo processo di immedesimazione con luce da vigile coscienza e anche con una certa gioia e questo ci dà un senso di energia che ci è molto gradito ma la poesia femminile sa esprimere anche il senso della più dolorosa esclusione il sentirsi diversi che non necessariamente collegato alla follia in senso clinico rende comunque il soggetto troppo infelice per potersi giustificare per poter dare un senso positivo alla sua diversità questo lo esprime in modo perfetto una poetessa Fernanda Romagnoli nel libro il tredicesimo invitato già a partire dal titolo capiamo no? cosa vuol comunicarci il tredicesimo invitato è una persona che in un contesto dove sembra che tutto vada bene si sente fuori posto grazie ma qui che aspetto io qui non mi trovo io fra voi sto come il tredicesimo invitato per cui viene aggiunto un panchetto e mangia nel piatto scompagnato e fra tutti che parlano lui ascolta ascolta inetto benché arda a sostenere quel peso di splendori si sente grato se alcuno casualmente lo guarda quando in cuore si smarrisce atterrito sto per piangere e all'improvviso capisce che siede un'ombra al suo posto che entrando lui è rimasto chiuso fuori questo senso di dolorosa solitudine esclusione diversità sfiora la dimensione nevrotica quasi anche schizzoide in un altro testo in cui Fernanda Romagnoli che nella realtà della sua vita quotidiana era una signora estremamente mite estremamente discreta difficile immaginare in lei qualsiasi protagonismo o voglia di apparire che purtroppo caratterizza molti poeti e poetesse di oggi ed è un segno nel caso della Romagnoli di vera grandezza questa sua perenne discrezione però una sofferenza che la rende simile alle grandi anche straniere vittime della melancolia falsa falsa identità prima o dopo qualcuno lo scopre io sono già morta da viva è di donna straniera la faccia tra i capelli in giù sporta che subito si ritira l'ombra che dietro le tende si aggira di sera il passo che viene alla porta e non apre suo il canto che intriga i vicini coprendo i miei gridi sepolti qualcuno prima dopo lo scopre ma intanto lei a proclamarsi non esita lei mostra il mio biglietto di visita io nel buio in catene a un palmo da voi di distanza sul muro graffio questa riga contorta testimonianza che mio era il nome alla porta ma il corpo non ero io vediamo quanti echi quanti riflessi quante interferenze dall'una all'altra di queste voci continuino a presentarci ad esempio quando dice qua il corpo non ero io ci richiama subito Madame X di Margherita Guidacci e nello stesso tempo quando dice che è morta ci richiama un altro testo di Maria Gloria Sears poiché dei mondi sognati non incontrai che la creta e delle stelle intraviste non ho che il gelo poiché la vicenda si compie senza eroismo senza passione senza bellezza io sono morta da tempo e qui c'è qualcuno che scrive quella donna dal viso indifeso un poco sfiorita che passa nello specchio in una scolorita veste rossa senza fruscio di fretta rialzando sul capo i capelli con mano distratta quella donna dall'anima dimessa dicono che sono io nel nostro panorama di poesia femminile del novecento abbiamo già nominato Antonia Pozzi alla quale ho dedicato un'intera puntata e per quello che l'abbiamo qui solo nominata però possiamo ricordarla anche così di sfuggita per un testo che rappresenta qualcosa di molto femminile io sono il fiore di chissà qual tronco sepolto che per essere vivo crea figli su dallo scuro grembo della terra io sono un fiore di accio straniato da ogni umana pietà o preghiera e l'aria che mi cinge è vuota senza respiro umbrata da funere e cipressi chi darà al fiore alla sua corolla dolente la forza estrema di interrarsi e questo è uno dei testi in cui più dolorosamente si pre sente come dicevo poco fa l'atto che compirà nel rinunciare definitivamente alla vita e quindi interrarsi come dice del fiore solitudine senso di estraneità diversità melancolia ma anche spesso un'abriosa coscienza capacità di sentirsi diversa e di stare bene in questa diversità non sempre note dolenti insomma per esempio leggiamo in Maria Luisa Belleli se mai rinascerò della Vallecchi negli anni 50 una poesia in cui viene descritto in modo perfetto questo ventaglio di condizioni psicologiche questa versatilità che la donna riesce a vivere che non sono maschere ma sono proprio tanti modi di essere sempre lei e diversa da un'altra lei tutte insieme giorni colmi e ci sono giorni colmi che mi è facile star quieta in casa che il disegno gracile d'un ramo contro una parete vale quanto l'ombra sommessa ad un viale la vita allora mi fa questo dono d'essere presente laddove non sono a volte fugo in alto come un fuoco d'artificio e mi smemoro in quel gioco di luce e di colori in movimento a volte brucio ferma e da quel lento ardere vanno in alto le faville sempre sono una e poi divento mille naturalmente c'è una grazia anche dovuta all'uso sapiente dell'indecasillabo perché anche Maria Luisa Belleli ingiustamente dimenticata ha una capacità di forgiare il verso veramente straordinaria ho sognato di giungere all'estremo limite della vita in un'alba lontana distinguevo l'alto lembo l'origine la forma di me come abbozzata in una nuvola tesa da un capo all'altro la memoria era l'arcobaleno che promette l'ultima pace e poi anche una straordinaria capacità di osservazione e di rappresentazione ricordo una poesia che ho sempre fatto studiare in memoria ai miei studenti arco di ponte sempre qualcosa che fa meraviglia oggi un arco di ponte e l'altro uguale l'immagine specchiata nel canale fanno congiunti una grande conchiglia fra due cieli sospesa là dentro forse la vita non pesa un elogio alla leggerezza qualità molto rara da trovare negli esseri umani e dono prezioso che gli dei concedono a pochi gli specchi della luna è il titolo della mia antologia che proposi a una casa editrice gentile e rapida nella confezione del libro e altrettanto rapida nella sparizione infatti dopo poco tempo non c'era più questa casa editrice svizzera ticinese gli specchi della luna rimane per me un titolo meraviglioso adatto quindi a indicare questo aspetto lunare su cui non mi sono ancora soffermato ma adesso ci arriviamo sappiamo benissimo che il sole è maschile la luna è femminile il sole con i raggi penetra dappertutto la luna invece si ritrae si muove determina dei cambiamenti ed è appunto collegata sempre a qualcosa di più notturno che diurno e quindi è più interessante mi sembra ecco o perlomeno presenta delle sfumature che ci possono inquietare l'inquietudine anch'essa è un elemento più spesso femminile che maschile basta pensare alla solita scenetta della coppia di marito e moglie che lui è il giornale davanti perché cosa deve fare legge il giornale le notizie sportive la politica tutte queste cose noiosissime e lei invece è un po' agitata ecco ma non è un'agitazione sì è un'agitazione dovuta anche ad elementi proprio come dire fisiologici però è un'agitazione collegata anche a una curiosità e a un desiderio di qualche cosa che lui non sente ecco la luna appunto poteva mancare la luna nel titolo della mia antologia infatti gli specchi della luna chi raccoglievo qua chi antologizzavo perché sono anche straniere leggo solo le italiane Ada Negri Sibilla Leramo Amalia Guglielminetti Antonia Pozzi Dalia Minicanti Fernanda Romagnoli Margherita Guidacci Aldamerini La Spaziani La Belleli La Bemporad Elena Bono ecco possiamo andare visto che siamo vicini alla luna al mistero alla ricerca di qualcosa che non vediamo bene all'elemento religioso l'elemento religioso e la poesia femminile il primo nome che mi viene in mente è quello di Elena Bono Elena Bono grande poetessa che non è soltanto da leggere come poetessa religiosa però principalmente Elena Bono ha una scrittura molto decisa e nello stesso tempo molto sognante mitologizzante perché lei ci parla di questi personaggi della mitologia pagana e poi del cristianesimo fondendoli lei parla con altrettanto piacere di Orfeo Euridice e di Gesù nell'orto di Gezzemani è sempre proiettata con la propria fantasia immaginazione coscienza ha un regno in cui il religioso è l'elemento dominante ma senza etichette poi naturalmente va molto più in profondo quando si trova a contatto con le figure della cristianità Proserpina ed anche quella sera ella correva con le care compagne nella valle e fuggiva a nascondersi perdendo qualche petalo lieve dalla sua ghirlandetta di rose ma la tradiva tra le foglie la cara veste e il tenue profumo delle rose ed il vivo vibrare del cespuglio al suo piccolo riso spaventato ancora quando viene la sera nella valle ritornano a giocare le fanciulle bianche correndo fra le ombre ed ancora taluna parla di lei di quella sera quando sparì e come arcanamente nulla di sé lasciando che la sua ghirlandetta di rose e non vè strada alcuna fra le piante per poterle inseguire e troppo grande è il buio della notte che scende nella valle sopra un'imitazione di Cristo anima mia dove vai dove vai per gli antissimi monti io vado dietro colui che sempre cammina e lascia tracce di sangue sopra le nevi e qui c'è addirittura anche dal punto di vista strofico metrico lesicale un eco del cantico dei cantici Gesù Gesù entra nell'orto la carne è stanca gli uomini non veglieranno con me voi grandi alberi che sempre parlate col vento notturni uccelli che non dormite notte che accoglie nel grembo tutte le cose vegliate voi con me non mi lasciate non lasciatemi solo col mio cuore Gesù nell'orto piange col viso nella terra lacrime e sangue solo Elena Bono è una poetessa molto etica religiosa ma etica lirica ma anche tragica purtroppo in Italia sono pochi intenditori che si sono interessati alla sua feconda e multiforme opera e quindi sono lieto ancora una volta di ricordare un nome poco spesso ricordato un nome che non voglio dimenticare è quello di Lina Fritschi donne come me si affidano al cuore e quando il cuore perde ahimè restano con lui trafitte morte su pagine bianche come farfalle e visto che ho scelto di leggere Lina Fritschi è una poetessa che parla molto della morte affrontiamo anche quel tema al femminile Lina Fritschi dedica una poesia che si potrebbe definire un po' cinicamente divertente alla morte chiedendosi come l'accoglierà morirò di pistola o di pugnale a mani legate o a braccia alzate a ripararmi gli occhi sarò ancora bella gettate uno straccio di seta sul fragile cadavere o cercate nel mio armadio un abito verde a ramage indossato all'ultimo ballo per la morte io voglio far festa per la sua mano fredda qui sulle palpebre e vedete quanti gioielli ci sono nascosti questa poesia è un vero gioiello e la nota che la rende unica è questa tendenza al macabro grottesco brioso che naturalmente sono maschere della più cupa disperazione Flora Antonion è una poetessa della la cui produzione della seconda metà del novecento molto femminile in cui ritorna molto spesso il tema della bellezza chi mai mi rese bella chi mai mi rese bella se non chi amò guardarmi chi mi plasmò nel sogno col più perfetto calco chi mai mi fece pura se non chi vide casto brillare in me il mio lume fu nel sentirmi amata che mi feci splendente apersi occhi infiniti in sorrisi d'amore giacqui velata in polvere nel grigio dell'oblio e quindi è il riconoscere che nell'essere amata per una donna consiste forse la gioia più insostituibile e nel non avere vergogna di di affermarlo mi ricorda una poesia analoga di Mary de Rachevils quella in cui si proclama si reclama il diritto alla donna di essere felice perché qualcuno le ha regalato una rosa perché un uomo le ha regalato un fiore Mary de Rachevils è la figlia di Ezra Pound non ha certo la fama di suo padre e ha molta più dolcezza di suo padre non sai che una donna è il brevissimo testo di Mary de Rachevils che vi leggo sia fatica d'uomo la gloria e l'epica impresa per me poche rose e che sempre vi sia chi dica ti ho presa non saranno molto contente le femministe se ci sono ancora comunque non ce ne importa nulla ecco Patrizia Valduga nome noto agli intenditori di poesia e anche a un vasto numero di lettori è una delle poche voci femminili della seconda metà del novecento che dà molta importanza all'elemento metrico per esempio scrive delle bellissime terzine e ha un gusto molto elegante con delle sottili venature di perfidia per indagare le più diverse e contrastanti sfumature del desiderio femminile di Patrizia Valduga che ho accolto ovviamente nella mia antologia Muse del disincanto vi leggo ora qualche terzina è proprio nel recupero della terzina dantesca che la Valduga mi fa il suo dono più gradito la tentazione in questa maledetta notte oscura con una tentazione fui assalita che ancora in cuore la vergogna dura io così pudica così compita vedevo un uomo a me venire piano e avvolgermi quasi avido la vita un altro ne veniva e con la mano delicatamente lui mi apriva e un altro e un altro e un altro che era vano a guerra parecchiarmi darmi priva già incatenata e senza una catena nel tempo che la vita non parviva non vuoi piccola piccola sirena posso io non volere star da lato o lasciatemi respiravo appena il cuore dalla sua sede saltato con cento mani vinte le mie braccia tutte le ossa mi avevano contato e ad ogni cavità davan la caccia nel denso nelle viscere spremuta in una tomba di carne che schiaccia e macina e mette al niente perduta che mai feci che mai feci mio dio mercè pietà perdono chi mi aiuta e sono versi in cui riecheggia la classicità con mio grande piacere riecheggia Dante soprattutto all'inizio ma riecheggia addirittura Michelangelo il metro classico per eccellenza della quartina e della terzina viene riproposto dalla valduga con un lessico sempre molto personale ed esiti di notevole originalità in testi volti all'esplorazione dei più reconditi meandri dell'io e quindi ci ricolleghiamo al discorso psicoanalitico che abbiamo già affrontato a proposito di Margherita Guidacci sempre a proposito di classicità in questo caso dovremmo dire di proprio rime che sono un elemento della poesia cosiddetta classica non possiamo dimenticare nel panorama della poesia femminile del novecento Vivian Lamarck un altro cognome straniero ma italianissima la poetessa da parte dei fan della poesia lirica tradizionale viene accolto con piacere il ritorno a una rima facile carezzevole quella a cui Marino Moretti all'inizio del secolo ha dedicato versi indimenticabili signora Rima tornano anche a festeggiare Sandro Penna schiere di festose leggerissime quartine ma ciò che torna veramente sul palcoscenico della poesia italiana con Vivian Lamarck è la fantasia che si accompagna piacevolmente alle rime quella con le ali della Trilli di Peter Pan i testi più significativi della poetica giocosa di Vivian Lamarck sono quelli del Signore d'oro recentemente ristampato da Crocetti con Feltrinelli ma nell'aldilà ma nell'aldilà nessuno nessuno ci separerà saremo due gocce di pioggia uguali o saremo due moscerini con le ali saremo due lumacchine lente liete o due puntini splendenti di stelle comete saremo due granelli di terra rotondi o saremo due insettini vagabondi uno davanti e l'altro dietro cammineremo cammineremo circonnavideremo il vetro della finestra chiusa ma se aperta via via per l'alto al cielo punteremo di tanto in tanto lei si girerà controllerà che anch'io ci sia ci sarò ci sarò anima mia sì sono poesie giocose però sono poesie anche molto sottili e poi mi piace particolarmente in questo caso il lei dare del lei è considerato di solito un modus di rispetto nei confronti dell'interlocutore e infatti lei sta dando del lei Vivian sta dando del lei al tu della poesia al tu a cui si rivolge che non è un tu ma è un lei a me questa cosa piace molto perché è inusuale si può amare una persona e darle del lei ritengo che siano tutte sciocchezze quelli quando si dice che il tu stabilisce una maggior confidenza ma sì certo è vero è vero ma anche con lei si può avere un rapporto molto significativo molto profondo quartine la mia settimana è un settenario con gli accenti su martedì e venerdì al sabato il tono cala risale il lunedì questa convivenza con la sua assenza sta diventando una prova troppo dura la natura va contro la natura Vivian sta parlando a un medico a cui è dedicato appunto il signore d'oro e quale migliore figura per chiudere questa passeggiata dedicata alla poesia femminile se non Maria Luisa Spaziani che è la vera incontrastata first lady della poesia italiana del novecento ormai sta diventando un po' lontano il novecento perché siamo nel duemila e ventuno comunque non ha scritto solo nel novecento Maria Luisa Spaziani ha protratto la sua produzione poetica fino all'anno della sua morte duemila e quattordici di Maria Luisa che è stata mia grande amica oltre che la grande poetessa che tutti conosciamo e che non abbastanza viene ricordata non abbastanza spesso con la profondità che meriterebbe la sua opera io le ho dedicato il libretto La Divina Differenza volutamente ricollegandomi alla figura di Montale sapete tutti che Montale è stato il suo mentore ma non di più ecco sappiamo anche che constatiamo anche che in certi aspetti Maria Luisa Spaziani va oltre Montale e mantiene una sua nota personale dalla prima raccolta all'ultima cosa che non possiamo dire del suo maestro di Maria Luisa Spaziani cosa vi posso leggere lei ha trattato tutto ha trattato il tema della dimensione solitaria dell'esistenza che si trascina nel tempo e che si vorrebbe mantenere perennemente giovane fanciulla piena di entusiasmo e che invece tristemente si va corrodendo ha trattato il tema della memoria presentissimo nella sua poesia raccolta recentemente nel Meridiano ha trattato il tema dell'amore come tensione verso l'infinito verso l'assoluto e dell'amore come passione soprattutto nella traversata dell'oasi non ci sono elementi che manchino gli elementi che riguardano ogni aspetto della vita non manca nulla nella poesia della Spaziani il ricordo è qualcosa di perennemente presente fin dalle acque del sabato la memoria poi viene anche in un certo senso insultata esplorata in tutti i suoi meandri e anche da un punto di vista filosofico ci sono delle riflessioni sulla memoria così come ci sono delle riflessioni sul libero arbitrio perché la poesia della Spaziani è una poesia metafisica esistenziale e di una completezza che veramente non non manca di nulla cosa vi posso leggere io auguro di ricordare la poesia che le consigliai io stesso di diffondere di far diffondere nelle scuole lei si era quasi dimenticata di averla scritta in cui si esorta un ipotetico destinatario a vivere attivamente e questa cosa la poesia non sempre la comunica perché spesso i poeti diciamolo sono anche dei depressi ora se c'è una cosa che Maria Luisa Spaziani non può essere è questa cioè non può conoscere la depressione perché è un vulcano perché è una persona in cui l'entusiasmos ha scelto la sua sede insomma e quindi che cosa esorta giustamente il giovane a cui si rivolge io lo vedo un giovane questo destinatario l'indifferenza è inferno senza fiamme ricordalo scegliendo fra mille tinte il tuo fatale grigio se il mondo è senza senso tua è la vera colpa aspetta la tua impronta questa palla di cera in questi brevi versi intitolati aspetta la tua impronta dove aspetta è terza persona dell'indicativo presente il soggetto è infatti la palla di cera che sarebbe il mondo la poetessa esorta e di questo era stata molto contenta anche la Rita Levi Montalcini sua grande amica che poi le affidò le chiese di scrivere una poesia che facesse da exergo a un suo libro e lì parla di Ulisse e della conoscenza ecco in questa poesia è concentrato un insegnamento molto importante non scegliete il grigio fatalità vuole che io oggi indossi qualcosa di grigio e quindi me la tolgo così rimane il bianco che è più di chinsoniano emili esalta il bianco parimenti maria luisa spaziani depreca il grigio e dice ci sono tanti colori scegliete i colori oppure il bianco ma non sempre il grigio perché l'indifferenza intesa nel senso non montaliano della divina indifferenza che è un valore positivo se si riesce a raggiungerlo ma intesa nel senso di apatia assenza di passione l'indifferenza è come un inferno senza fiamme ricordalo quando scegli fra mille tinte il tuo fatale grigio basti guardare le automobili in giro no? quante sono le automobili rosse gialle azzurre sono nove su dieci o grigie o nere perché? non si sa non si sa e i politici perché devono vestirsi sempre di grigio? non si sa sono tutte domande a cui non c'è risposta semplicemente è l'adeguarsi a un modello che si subisce passivamente e che è il più diffuso e lei dice il grigio ti è fatale ti sarà fatale perché? perché devi essere ciò che sei e sei colorato vuoi essere colorato in realtà nel tuo profondo non ne hai il coraggio e vabbè insomma peggio per te alla fine non lamentarti poi se la tua vita è una vita che si confonde con quella di mille altri e non ti dà un briciolo di felicità sulla quarta di copertina del mio saggio dedicato a Maria Luisa Spaziani la divina differenza saggio sulla musa lirica di Maria Luisa Spaziani ho voluto che ci fossero queste due quartine la botola la botola ci attende sì ci cadremo tutti ma è importante cadere dall'alto sapere che fu danza che fu guerra non attesa sospiro grisaglia anche io amai gli amanti dei crepuscoli i pescatori d'ombre gli offesi gli umiliati mirabili maestri mi insegnarono a diventare l'esatto contrario messaggio che ci proviene da una voce femminile la cui forza ed energia trascendono ovviamente ogni differenza sessuale sono la voce dell'entusiasmos che non ha sesso 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 che non ha sesso